Beh, qui sta l'intelligenza, se sei intendo ci devi arrivare. Lascia perdere quello. Jenny? No. Dai, prendi le misure, vale. Fai l'ingegnere da cantiere. Al centro. Vai. No, Tim, è così, guarda. No, 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 così non ce la fai. Jenny, amore, guarda di qua. Jenny, guarda lo zio. Baby shot, tu, 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 tu. Gio, smettila, che poi lo vuole. Poi lo vuole, eh? Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ci abbiamo i telefoni. Quasi 40. Quasi? Allora, aspetta che si affetta ancora un po'. Ehi, nonno, come procede qua l'impianto? Mi prende una schifezza. Una schifezza. Oh, però sei bravo a fare le buche, eh? Le buche, sì, ma sai perché? Eh. Perché facevo l'impaccatura con mio padre quando facevo l'impaccatura. Ah, allora questa qua è tutta esperienza. Esperienza che stai rimettendo in pratica. No, quello lì è pericolosissimo. Lascia, facciamo, metto. Vale, quello lì taglia, appoggialo sul tavolo. Soprattutto fare tutto, al suo tempo. Anche Jenny. Quascello. No. Ehi, ma con quel coso in mano, con tua sorella vicino? Mi sembra il caso, eh? Valentina, vieni qua. Guarda come fa la tecnica, il nonno, come scava bene per terra, che fa la buca fatta bene. Jenny, ehi, guarda qua. Ciao piccola. Ehi, tu, ciao. Mi dai un bacino, Jenny? Wow. Vai, metti dentro. Scavi archeologici. Sì, ma è qua. Eh, a voglia. Guarda, è 40 a borda. Ancora un po', dai. No, no, 40 giusti, 40 giusti. Amore, ciao. Ehi, là. E adesso? Ehi, là. Quanto vuoi fare, Valentino? Ciao, meraviglia. Ma sei una meraviglia tu. Adesso vai a prendere, ecco, dove è la tua pianta. Sì, sì. Amore. Dai, prendi la tua pianta. Eccola. Adesso lascialo qua. Eh, guarda quanto catarrino. Ciao. Questa, eh?